... Dain Zara, attenzione Dain Zara, subito sul costituzione il numero 11 di Fermiliano, ex alasco di... Dain Zara, Dain Zara, una volta Dain Zara, 2-1 Fermiliano, Dain Zara! Dain Zara, ha segnato il Fermiliano qua in Dain Zara, Dain Zara subito il numero 11 di Fermiliano, punizione magistrale del numero 11 Dain Zara. Che fenomeno, quindi il numero 11, 37 anni Dain Zara, che punizione!